Orso Marso, Sant'Agata d'Esaro, San Benedetto e Tullano sono i tre comuni della provincia di Cosenza che hanno diritto al progetto Appennino Bike Tour, che ha fatto tappa in Calabria nei giorni scorsi. L'idea è quella di valorizzare la dorsale appenninica che tiene unito il nostro paese attraversandolo per intero da nord a sud, proponendo un modello di sviluppo rivolto soprattutto alle aree interne che punta su forme di turismo ecosostenibile, mobilità lenta e accoglienza. Nato nel 2017 da una sollecitazione di Vivi Appennino, sposato dalla ConfCommercio e oggi promosso dal Ministero dell'Ambiente e delle Infrastrutture, che in un gioco di sinergia con tutti i territori mira a costruire un unico brand da proporre al mercato turistico nazionale e internazionale. Vediamo come questa iniziativa in soli due anni sta continuando a crescere, sta portando entusiasmo nei territori che si stanno mano a mano organizzando per strutturare quella che è l'offerta della ciclovia Appennini, con un'offerta che prima di tutto guarda il cicloturismo, guarda la bike economy, grazie anche all'avvento delle biciclette pedalate assistita. Ma poi un territorio tutto da raccontare, quindi non solo bici ma anche la vicinanza al mare, ma anche escursioni a piedi, a cavallo, rafting e tanto altro ancora, che sono le caratteristiche naturali bellissime. Due progetti tra l'altro a cui state lavorando in maniera spedita, che è quella di creare la cartellonistica adatta a riconoscere appunto i luoghi, ma non solo, un progetto che valorizza anche l'aspetto enogastronomico. Certo, la cartellonistica sicuramente è il punto di forza, è il punto di partenza di tutto il progetto, perché se noi rendiamo visibile l'itinerario, ecco che quella che è una grande idea, una grande progettualità costruita da amministrazioni, da territori, dal governo stesso che ci sta credendo fortemente, diventa qualcosa di vero, qualcosa di vero, qualcosa di fruibile, qualcosa che tutti possono in qualsiasi momento e durante l'anno percorrere. Sicuramente appennini che diventerà quindi un volano per i territori delle aree interne, andremo a definire quella che è la direttrice, ma poi un progetto che si amplierà verso tutte le aree appennini, che quindi con un coinvolgimento di 1.400 comuni, che è tutto il territorio dell'Appennino, con un'attenzione quindi non solo all'ambiente, non solo allo sport, a tutte quelle che sono le iniziative che si possono fare nel territorio, ma anche all'enogastronomia, perché l'enogastronomia è un racconto di quello che sono questi territori, un racconto vero che ci porta a tutte quelle che sono le specificità di questi territori. Siamo partiti in Liguria assaggiando e esaporando il pesto, oggi siamo qui tra peperoncini, cedro e tantissime tipicità di questo territorio e quindi il viaggio di per sé attraverso i sapori è un viaggio straordinario e che comunque ad ogni tappa te ne accorgi. A sugellare l'impegno con tutti gli attori protagonisti e col Ministero dell'Ambiente l'adesione alla campagna Plastic Free.